Ancora uno sbarco fantasma, ormai all'ordine del giorno, arrivano con i barchini sulle coste dell'Agrigentino, in genere scelgono luoghi appartati, ieri invece uno sbarco in pieno giorno a San Leone ad Agrigento. Sì, non era mai successo, è la prima volta che arrivano in pieno giorno nel centro di San Leone con una barca ridicola, 5 metri di barchino in venti, quindi è certo che siano stati trasportati fino alle nostre coste da una barca madre e poi rilasciati e quindi sono arrivati in spiaggia. Non appena arrivati sono messi a correre verso il boschetto salutando e sbeffeggiando i bagnanti. Per tutta la serata la polizia li ha cercati, addirittura alcuni li hanno trovati in case nel viale delle Dune e ormai hanno perso pure il controllo e la paura di arrivare in posti frequentati, mentre prima arrivavano soltanto nelle coste isolate. La gente li accoglie, ma di queste persone se ne sono state trovate 11, le altre quindi sono ancora disperse, le forze dell'ordine li cercano. Ma se quelli che arrivavano con i barconi rischiavano la vita e chiamavano aiuto, queste persone chi sono? Allora, quelli che arrivano dalla Libia sono nella maggior parte subsahariani richiedenti d'asilo. Questi fanno di tutto per cercare aiuto e chiamano con i loro cellulari sia le ONG sia le Capitanerie di Porto. E questi sono gli sbarchi che arrivano dal centrafico. I cosiddetti viaggi della speranza, loro invece erano organizzati? Questi sono invece i tipici sbarchi fantasma. Si chiamano fantasma perché sono dei fantasmi i migranti che arrivano, non chiedono aiuto, fanno di tutto per restare anonimi, perché sanno che non hanno nessuna possibilità di restare qui, poiché sono migranti economici. Non è prevista l'accoglienza per loro, ma è prevista soltanto il rimpatrio. E quindi fanno di tutto per non essere trovati e quindi sono praticamente dei fantasmi. Sono arrivati con una barca molto piccola, avevano combustibile a volontà, avevano due motori, uno montato, uno in stiva. e abbiamo saputo che hanno dei precedenti penali e quindi sono persone da prendere con le pinze pericolose.